Si è tenuta sul Mona, nello spazio Pingue, una simpatica squilata di moda per bambini. Diciamo subito che lo spazio Pingue, sito in Vialamaccio numero 2, è di recente creazione, sobbiamente elegante ed accogliente, è certamente il luogo ideale per questo tipo di manifestazioni. La particolare location non è sfuggita alla titolare del negozio per bambini, Bimbo Mania, Claudia Presutti, che insieme a Federica dello spazio Pingue, ha organizzato la simpatica squilata. Visto il periodo abbiamo pensato di fare questa sfilata da cerimonia in una location stupenda che è spazio Pingue. Noi siamo il negozio Bimbo Mania, ci occupiamo di abbigliamento da 0 a 16 anni, non solo cerimonia ma anche sportivo, anche per le mamme in dolce attesa, i bambini piccoli. Sfilano bambini piccoli, paggetti da migelle, la comunione, le cresime, gli invitati alle cerimonie, da 0 fino a 16 anni. Gli abiti presentati dai piccoli model sono abiti da cerimonia in vista della prossima stagione, delle comunioni, delle cresime e molto altro, come ci precisano due piccole indossatrici. Dalla mia nascita mi è piaciuto mettermi i vestiti e farli vedere agli altri. Sì, sono felice ma non sono ansiosa perché per me è una cosa normale con tutti i saggi che faccio. I piccoli e quelli più grandicelli hanno sfilato con disinvoltura, alcuni con atteggiamenti di apparente e consumata esperienza. Ai lati della passerella un discreto pubblico molto disposto ad applaudire, forse familiari ed amici, che hanno immortalato con fotocamere e telefonini il passaggio dei loro piccoli congiunti. Abbiamo detto che i piccoli non ci sono sembrati molto emozionati, anzi, molti erano addirittura entusiasti. Per un cimento forse inconsueto per piccoli di quell'età, ma certamente emozionate le mamme che hanno consentito la partecipazione dei loro bambini per offrire loro un'esperienza interessante e, perché no, formativa. Forse sono più emozionata io che mio figlio, però è un'esperienza carina, sicuramente ci sono bambini già dei provetti modelli. Ho la piccola di quattro anni e mezzo che sfila, è già la terza sfilata che fa con loro, tutta contenta, loro, Claudia e il resto del negozio sono stupende e lei molto volentieri sfila con gli abiti del negozio. E' contenta anche la mamma? Contentissima, poi vederla lì mi emoziono più io di lei, sicuramente, sicuramente.